Musica Rieccoci in diretta, è qui con noi Viola Carofalo, buonasera Viola Carofalo, portavoce di Potere al Popolo, lista che ovviamente anche lei concorre a queste elezioni del 4 di marzo Se lei, diciamo, libro dei sogni, da domani è al governo, quale sarebbe il primo provvedimento che metterebbe in cantiere? Cancellazione del Jobs Act, sicuramente quello per una ragione molto concreta che io penso che i tempi di vita e il modo in cui si lavora sono strettamente collegati lavorare eternamente da precari, e il Jobs Act ce lo consente lavorare con la spada di Damocle di un licenziamento che anche se fatto senza giusta causa non prevede il reintegro non è vivere, non è poter costruire relazioni sociali, non è potersi fare, se uno la vuole fare, una famiglia non è vita, quindi secondo me il punto centrale da affrontare è quello del lavoro Quindi anche l'introduzione dell'articolo 18 Sì, estensione E per le pensioni? Le pensioni, lei me ne ha chiesto soltanto ora Mi ricollego al discorso lavoro-pensioni che sicuramente interessa chi ci ascolta Allora, sulle pensioni, noi pensiamo che la questione della pensione minima e dell'innalzamento no, perché adesso si va a sbandierare questo 11% di innalzamento, sono 7 euro Io lo vorrei fare, l'11% sono 7 euro per la minima e non si vive con 500 euro al mese Dove si possono trovare i soldi? Prevengo la domanda Intanto limitando le pensioni massime Noi pensiamo che, come dire, non ci sia bisogno dei paperon dei paperon C'è bisogno di vivere tutti un po' meglio Pensiamo che l'idea di distribuzione della ricchezza sia attuale e sia importante e centrale da perseguire Quindi certamente bisogna abolire la Fornero e perché bisogna andare in pensione prima perché noi troviamo che sia un assurdo che c'è gente che vuole entrare nel mondo del lavoro e che arriva a 30 anni, a 31 anni, a 32 anni senza riuscire a cedere E' gente che disperatamente vuole andare in pensione perché non ce la fa più e non può andare in pensione E' un controsenso E quindi crediamo che anche su quello si dovrebbe intervenire Vado a riequilibrare il sistema Noi paperoni significa tante cose non soltanto il reddito di cittadinanza che è, secondo noi, un intervento importante soprattutto per uscire dalla soia di povertà per liberarsi di questo incubo che è la povertà quindi potersi permettere un affitto poter riscaldare la propria casa poter non contare i centesimi per fare la spesa quindi sicuramente questa è un'iniziativa importante E' importante però secondo noi è centrale il lavoro perché noi pensiamo che il lavoro degno faccia la vita degna quindi è importante che ci sia la possibilità di lavorare non soltanto, come dire, misure di supporto alla mancanza di lavoro Volevo fare una domanda su Matteo Renzi perché leggevo, spero di aver letto anch'io bene un giudizio molto aspro sul leader del PD diceva, in qualche modo, lui e la sua squadra sono riusciti a fare quello che nemmeno Berlusconi era riuscito a fare a che si riferiva? Cioè, qual è stato il vero guaio che ha combinato Matteo Renzi? Allora, Matteo Renzi è la domanda più facile della storia che cosa non è riuscito a fare Matteo Renzi? Veramente Berlusconi credo che ci abbia una foto in camera per ispirarsi cioè, in termini di distruzione del lavoro e dei diritti sul lavoro Berlusconi ci ha approvato e lui ci è riuscito in pieno col Jobs Act ovviamente è un processo più lungo perché non è che la Fornero e il pacchetto Treu non andassero in quella direzione cioè di precarizzazione, di compressione dei diritti però il Jobs Act, come dire, è stato il capolavoro da questo punto di vista Allora, io ho visto il vostro programma che proponete le 32 ore di lavoro settimanale che sarebbe una riduzione rispetto all'attuale sistema e le volevo chiedere in Europa, diciamo, c'è ci sono state le 35 ore in Francia oramai sono 20 anni alcuni dicono abbiamo sbagliato torniamo sui nostri passi adesso c'è in Germania il tentativo di fare una sperimentazione sulle 28 ore però a fronte di una riduzione salariale quindi volevo chiedere, sì, diciamo, su base volontaria uno può scegliere se lavorare di meno ma può scegliere anche di lavorare di più e guadagnare di più volevo chiedere, secondo lei, perché può funzionare in Italia una cosa del genere? Allora, intanto rispetto al discorso di lavorare meno e tra l'altro io lo sottolino perché prima si faceva l'esempio della Germania lavorare meno a parità di salario perché lavorare meno si può lavorare meno insomma, come dire anzi, molte volte si lavora molto poco quindi c'è questo problema e molte volte però si lavora così tanto che ci si ammazza il problema è trovare una mediazione fra questo è una ricetta, io penso questo al di là dei numeri è una ricetta, è una scelta politica io penso che si tratti di scelte politiche in un mercato del lavoro dove c'è gente che si ammazza di lavoro fa tre lavori di cui probabilmente uno a nero perché poi anche questo spesso non è sondato ma invece esiste è a un peso ed è, secondo me, uno schiaffo gravissimo nel 2018 in un paese civile è impossibile pensare che c'è gente che si ammazza di lavoro e gente che cerca il lavoro ed è disperata un po' come vale per il discorso delle pensioni noi pensiamo a riequilibrare tutto questo se noi rimettiamo i soldi nelle tasche dei lavoratori poi questa gente li spende e quando si parla di far ripartire l'economia penso quando si parla degli sgrevi alle imprese eccetera eccetera noi diciamo che esiste anche un'altra formula e che si tratta di scelte politiche noi possiamo continuare a dare i soldi a chi ce l'ha già nella speranza che prima o poi li reinvesta e li spenda nella speranza che li reinvesta in Italia e non è detto nella speranza che li spenda e non è detto perché può essere che uno come dire se li mette in una bella banca in Svizzera oppure possiamo provare a darle ai lavoratori a non farli ammazzare di lavoro in modo che possano lavorare anche quelli che oggi forzatamente restano a casa e ricominciano le spese e l'economia riparte non è soltanto una scelta etica per quanto ci riguarda è anche una scelta funzionale iscriviti al nostro canale